Dopo la denuncia della Presidente dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, Teresa Astone, ad alzare la voce sulla mancata manutenzione stradale e sulla segnaletica inesistente in città, è anche il consigliere comunale di opposizione Agostino Abate, che mette in risalto ancora una volta la situazione attuale, sottolinea di aver scritto al comando dei vigili urbani e al sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, per sollecitare la necessità di adeguare la segnaletica presso l'incrocio canalizzato nei pressi della rotatoria che congiunge la statale e la strada litoranea. La mancanza di un'adeguata segnaletica sia orizzontale sia verticale nei fatti, cioè noi possiamo girare praticamente la città di Agropoli e troviamo segnaletica ormai obsoleta, segnaletica che appena si vede, strisce pedonali che appena si leggono. In più le posso aggiungere una cosa e colgo l'occasione proprio per raggiungere su questo, provenendo dal bivio delle mattine e percorrendo la statale 267, cioè la famosa strada che ci porta dal bivio delle mattine al centro di Agropoli, noi ci incrociamo con la litoranea che proviene quindi da Pestum. In quel punto c'è una mini rotonda, in quella mini rotonda costantemente si creano problematiche perché chi viene dalla litoranea forse non è in grado di leggere una segnaletica sufficiente e capace di capire che si sta emettendo una rotonda e quindi è facile lo scontro tra queste due autovetture, quelle che proviene dalle mattine sulla statale e quelle che proviene da Pestum sulla litoranea. Ebbene l'altro giorno trascurando ciò che tenevo da fare personalmente e professionalmente mi sono messo a tavola e ho scritto praticamente sia a sindaco sia a comando dei vigili urbani, chiedendo praticamente un loro intervento e dicendo se quella è una rotonda di adeguare la segnaletica per la rotonda e se quella invece non è una rotonda ma è un incrocio normale diciamo ancorché canalizzato di adeguare la segnaletica per un incrocio canalizzato. A tutt'oggi ancora non ho ricevuto risposte, quindi vanno adeguate le segnaletiche e va vigilata molto ma molto di più la percorribilità delle strade e la valenza della stessa segnaletica.